E allora, così Matteo Salvini, buonasera a Massiano Salini, eurodeputato di Forza Italia, quindi Partito Popolare Europeo, grazie per essere qui. Io ho visto che Alberto D'Argenio ha detto soltanto lunga su Brexit, che era una risposta estremamente sintetica, però vorrei, prima di cominciare a parlare delle elezioni europee, ovviamente prendendo lo spunto da ciò che ha detto Matteo Salvini, vorrei un minuto invece in cui tu racconti quello che in questo momento sta vivendo questa città, Bruxelles, nell'attesa di questo Consiglio Europeo straordinario, l'ennesimo in cui si parla di Brexit. Beh, è un assoluto senso di vaghezza, cioè nessuno sa cosa accadrà, in questo momento penso davvero che nessuno in Europa sappia come andrà a finire. Intorno a questo tavolo abbiamo avuto una splendida rappresentazione dei problemi di Londra, abbiamo i sostenitori dell'hard Brexit che sono gli unici a avere le idee chiare, ma si scontrano con la realtà, cioè non è possibile fare una Brexit dura perché ci sono dei problemi irrisolvibili che il Parlamento inglese non è saputo risolvere in due anni, a partire da quello del confine irlandese. Abbiamo un partito laburista che non può dirlo, ma cerca di allungare il più possibile i tempi per arrivare, per far maturare i tempi di un referendum. E per sfinire anche la MEI. Per sfinire la MEI che è già sfinita probabilmente. Diciamo il partito conservatore nel suo complesso. Un secondo referendum oggi non è convocabile, hanno bisogno di due anni ancora, questi sono i tempi che si danno loro, quindi buttare la palla oltre. Un partito conservatore adesso tanno che abbastanza un esponente... E' uno dei pochissimi di MEI. Esatto, però anche i conservatori in realtà non sanno che pesce pigliare. Per quello io dico, o ci sarà un no deal per incidente, ma veramente ne dubito, e comunque non sarebbe la fine della storia. Perché anche con un no deal tu puoi rinegoziare un accordo entro due o tre settimane, un mese, quando tu avrai i negozi vuoti, senza medicina in Inghilterra, le file di camion in Francia, possono tornare indietro. e questo è un calcolo che si sta facendo in queste ore, calcolo spericolato e che speriamo di non vedere, perché sarebbe spericolatissimo. Si parlava di 11.000 veicoli al giorno... Esatto, bloccati. Grazie alle regole del WTO che l'esponente della Brexit evocava. Allora... Auspicava, quindi. Salini, l'ha sentito Salvini? C'è soltanto una vocale differenza tra il suo cognome e il suo. È un grande progetto europeo, polemiche locali non ci interessano, non ci sono nostalgici, estremisti, noi vogliamo essere il primo partito, abbiamo un sogno, quelli che invece sono nostalgici sono quelli che adesso governano a Bruxelles. In questa situazione, visto che lei, il suo partito, Forza Italia, con la Lega e con Fratelli d'Italia, governa alcune delle regioni più importanti del paese, ha ottenuto una serie di successi, anche nelle ultime tornate amministrative. Onestamente, che spazio pensa di trovare alle prossime elezioni europee? Io innanzitutto dico che non riconosco la Lega e non riconosco questo Salvini perché io amo parlare della realtà quando devo descrivere le prospettive politiche. La realtà è che febbraio su gennaio abbiamo altri 40.000 posti indeterminati in meno in Italia, 30.000 posti determinati in meno. Abbiamo un contesto economico che mi fa venire voglia di dire a Salvini che sono io quello che ha nostalgia dell'Italia che cresceva in questo momento. Non ho il problema di trovare i nostalgici in Europa. Sono qua in Europa tutti i giorni a lavorare perché l'Europa migliori. Fatico a vedere i suoi compagni di partito fare altrettanto. Lavoro dentro le istituzioni, in particolare sulle regole di Dublino da riformare per l'immigrazione. E quindi onestamente sorrido un po' nel vedere questo tentativo molto verboso di costruire questo ossimoro politico dell'internazionale nazionalista che non si realizzerà mai. Perché nella storia non ho mai visto nessuno che riesce a tenere nel tempo per distruggere qualcosa. È più probabile che invece se decideranno di costruire insieme a noi un'Italia, un'Europa che conosca e riconosca di più la nostra Italia, allora a quel punto sì, quello che è già accaduto nel 2017 con le elezioni di Tajani potrà essere coronato con una nuova maggioranza. Ma una maggioranza che parli di cose vere, non di sogni realizzati in Italia e quindi realizzabili anche in Europa. Allora, andiamo davanti a Dello Russo che è a Piazza di Pietra, a Roma, perché è un'occasione di parlare di tutte le opposizioni. Ovviamente perché è lì che Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, ha deciso di illustrare quelli che sono stati i risultati di due anni e mezzo appunto su una delle tre cariche istituzionali più importanti dell'Unione Europea. Allora, di questo ci racconti Valentina, ma è stata anche la giornata di presentazioni anche di altri simboli. Insomma, si va stringendo la corsa ormai forse nata verso l'Europea e a te. È proprio così, Donato. Un'Europa nuova con i cittadini al centro. Lo vedete, questo è l'opuscolo che Antonio Tajani ha scelto di diffondere. Oggi il presidente del Parlamento Europeo sta facendo proprio in queste ore un bilancio dei suoi due anni e mezzo di presidenza. Ha voluto rivendicare molte delle battaglie portate avanti anche grazie al suo impegno dalla protezione del diritto dell'autore online alle norme per difendere le imprese dal dumping cinese alla messa al bando della plastica useggetta dai nostri mari fino ai 2 miliardi di fondi che sono arrivati per i terremotati del centro Italia. C'è stata occasione di incrociarlo nel suo arrivo qui e di porgli però anche delle domande in vista delle europee rispetto alle alleanze. Vi facciamo ascoltare che cosa ha risposto su un'eventuale apertura del Partito Popolare Europeo ai 5 Stelle ma anche su la Lega di Salvini. Ascoltate. Mi pare un periodo ipotetico dell'irrealtà e mi sembra che i loro interessi vadano verso i gilet gialli quindi alleanze preoccupanti come sono alleanze preoccupanti quelle della Lega con Alternative for Deutschland. Se Salvini sceglie di stare con i conservatori il discorso è più facile noi ci auguriamo che faccia questo ma se va con Alternative for Deutschland diventa veramente difficile andare con chi vuole flagellare l'Italia con chi vuole una politica economica dell'austerità per noi non va bene. Da Vice Presidente di Forza Italia è intervenuto poi anche su temi nazionali come la flat tax che sta dividendo in queste ore i due Vice Premier. Tagliani ha detto o si fa o non si fa non la si può fare a metà altrimenti sarebbe una presa in giro un tema sul quale per tutta la giornata il Partito Democratico è andato all'attacco del governo col segretario Nicola Zingaretti che dal Vinitali di Verona ha parlato di un esecutivo del cambiamento che però è diventato un esecutivo della paralisi e non a caso il segretario Dem rilancia sui temi economici domani incontrerà il mondo degli industriali e delle imprese al Nazareno e poi come dicevi è stata una giornata importante anche per Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha presentato il simbolo per le europee una nuova lista l'unica lista di sinistra ha detto si chiamerà proprio così La Sinistra metterà assieme anche l'altra Europa di Tsipras Rifondazione e poi l'ex di Leo La Forgia una compagine che punta ad arginare ha detto l'onda nera che si sta diffondendo in Europa attraverso delle parole chiave una è la patrimoniale poi c'è il lavoro e l'ambiente è tutto donato a te Grazie Valentina Allora Alberto Argenio dunque nelle parole di italiani in realtà e nella domanda che gli ha fatto la nostra Valentina dello Russo in realtà si semplificano plasticamente alcuni dei temi che caratterizzeranno sia questa campagna elettorale sia ciò che succede dopo cioè le alleanze le alleanze dichiarate prima e le alleanze che potrebbero nascere dopo per formare una maggioranza perché lo ricordiamo nonorevole Salini nel caso in cui si rifacesse la campagna elettorale nel Regno Unito e rientrassero 73 deputati di cui presumibilmente molti del Brexit Party che abbiamo visto rappresentato qui questa sera alcuni equilibri potrebbero cambiare sarebbe tutto diverso tutto diverso allora ragioniamo però come se gli inglesi non tornassero a votare perché se no facciamo tutti e due i ragionamenti sono piuttosto complicati già uno allora Salvini nelle parole dell'onorevole Salini si capisce quale può essere uno schema convergente tra Forza Italia e Lega cioè quello di creare una nuova maggioranza al Parlamento Europeo PPE chiamiamoli sovranisti per comodità allora primo punto i sovranisti faranno un fronte unito oggi sono separati l'onorevole Salini scuote la testa è difficile che lo facciano ma potrebbero farlo lo deve fare come potrebbe non farlo non riescono a metterli tutti insieme allora loro ci stanno lavorando sono due grossi partiti che sono quello che adesso è finito in mano i polacchi di Kaczynski che redditano dai conservatori inglesi e quello di Salvini e Le Pen insieme già sarebbero 110 se si prende FD che è già andata con Salvini sia sui 120 130 ci sono tutta una serie di nuovi partiti di estremissima destra dell'est con Salvini quindi potrebbero arrivare a fare il secondo gruppo al Parlamento a superare per intendersi i socialisti i socialisti il centrosinastra PS PD a quel punto ci potrebbe essere una tentazione e anche all'interno del PPE ci sono partiti che premono in questa direzione come mi sembra Forza Italia di fare un accordo di governo al Parlamento europeo tra il PPE e appunto questo grande gruppo di destra chiamiamolo non tutto il PPE e Orban li avrebbe un ruolo perché Orban è ancora nel PPE sospeso ma ancora nel PPE e secondo me la Lega va meglio che resti nel PPE piuttosto che vada da loro perché di 10 deputati in più non se ne fanno nulla di un grande alleato del PPE qualcosa gli serve questo è il primo scenario c'è lo scenario A che dobbiamo dire che è quello dell'alleanza classica PPE socialisti liberali e verdi al quale lavora Macron Merkel che non avrebbe bisogno di quell'alleanza con i 5 stelle che vagheggiano gli stessi 5 stelle che sono quelli più in difficoltà in questo momento questo con Brexit senza Brexit senza Brexit è tutto un altro discorso senza Brexit lo vedremo insieme dopo domenica al Consiglio europeo eccolo Gabriele Martelloni che ci racconta il presidente del Consiglio Conte ha riparlato a Milano pochissimi minuti fa dicendo non c'è una lineatria c'è una linea dei truffati dalle banche a te Gabriele si è donato proprio così il presidente del Consiglio che ha lasciato il Museo del Design dopo il taglio del nastro un punto stampa con i giornalisti in cui ha raccontato quello che è stata la riunione di questa mattina siamo ai truffati delle banche ha elencato quelle che sono state le proposte fatte dal governo in particolare quella del doppio binario quindi un risarcimento diretto per tutti i risparmiatori sotto i 35 mila euro di reddito Isee e 100 mila euro di patrimonio immobiliare mentre per gli altri ha precisato non ci sarà un arbitrato ma una commissione che è stata istituita ad hoc secondo il presidente del Consiglio non ci sarà una procedura di infrazione con questa metodologia che è stata attuata dall'esecutivo e ha assicurato questa non è la lineatria che vince ma è proprio la linea dei truffati che ha vinto e poi è tornato sul DEF il presidente del Consiglio che dovrà mediare fra le richieste che arrivano da parte del Movimento 5 Stelle e della Lega in particolare Salvini che spinge per la flat tax ma il presidente del Consiglio che sottolinea per la flat tax siamo tutti a spingere perché nel contratto di governo l'abbiamo già cominciata nella passata manovra e quindi va completata ma tenendo conto di quelli che sono gli equilibri di bilancio Donato a te Molte grazie è stato rapidissimo come sempre Gabriele Martelloni chiedo anche a lei di essere rapido perché vorrei chiudere con le parole di Federica Mogherini sulla Libia oggi è importante darle e quindi che cosa sente di rispondere diciamo così a quella che è l'azione di un governo che in questo momento sul tema diciamo così dei risparmi dei truffati e di questo elemento importante del decreto crescita cerca di trovare la quadra beh la risposta che decide di dare ai truffati è una risposta coerente con una campagna elettorale che ha strutturalmente accompagnato tutte le battaglie per le fasce più svantaggiate in maniera quasi diciamo ossessivo compulsiva solo risposte immediate dirette a domande molto puntuali quello che ma e questo mi auguro accada anche nel caso dei truffati cosa che manca manca quella proposta di sistema che consente al paese di uscire dalla crisi in cui è finito se noi finanziamo i singoli soggetti fragili otteniamo risposte che durano un quarto d'ora io dico che le meritano queste risposte ma dico che l'Italia merita anche una proposta che sia in grado di costruire le condizioni per un'ereo partenza e questa è venuta meno completamente novità importanti dalla Libia al Sarraji ha ripreso il controllo dell'aeroporto di Tripoli quindi i militari di Haftar sono in ritirata l'altro rappresentante per la politica estera e la difesa dell'Unione Europea Federica Mogherini Innanzitutto chiediamo a tutte le parti in causa e a tutti i soggetti regionali di applicare immediatamente una tregua umanitaria come richiesto dall'ONU due evitare l'escalation militare le notizie che provengono dall'aeroporto di Tripoli non sono sicuramente positive invitiamo tutti a evitare qualsiasi azione militare e a tornare al tavolo negoziale sotto legida dell'ONU così Federica Mogherini molte grazie a Massimiliano Salini Forza Italia e al corrispondente di Repubblica da Bruxelles Alberto D'Argerio domani con la bus è la stessa ora non perdetela e buona serata è la stessa per la stessa è la stessa a Massimiliano Salini